A meno di un mese dalla scadenza dell'Istat per la restituzione dei questionari, a Napoli sono il 75% le famiglie presenti nelle liste anagrafiche comunali che hanno risposto al quindicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Un dato positivo considerata la complessa realtà del territorio, ma non troppo. Gli ultimi aggiornamenti dell'Istituto Nazionale di Statistica vedono infatti il capologo partenopeo in coda alla classifica delle città italiane più collaborative, seguito soltanto da Messina e Roma. C'è tempo comunque fino al 29 febbraio prossimo per compilare e restituire chi non lo avesse ancora fatto il modello ricevuto. È possibile farlo online recandosi a un ufficio postale oppure tramite rilevatori, che oltre a ritirare i questionari e consegnarli a chi non li ha ricevuti, forniranno assistenza gratuita per la compilazione. Per consentire una tempestiva conclusione delle operazioni censuarie, l'amministrazione comunale invita le famiglie che non hanno ancora provveduto a farlo il prima possibile. Io credo che ogni cittadino debba avvertire l'esigenza di compilare il quesito per il censimento, perché ripeto rappresenta un'occasione utile per la città e deve assolutamente essere vissuto come un dovere civico da parte di tutti i cittadini. I quartieri più virtuosi con oltre l'80% delle famiglie censite sono Soccavo e Secondigliano, a mercato invece il maggior numero di questionari compilati via web. Chiarimenti e informazioni sul censimento si trovano nell'apposita sezione sul sito del Comune. È prevista inoltre l'applicazione di una sanzione per chi sceglie di non collaborare.